Buongiorno amici nerazzurri amici in generale di youtube sono le 10 di mattina questo video non l'ho potuto fare subito dopo la partita perché ero al lavoro ho provato a farlo alle 3 di notte mi ha dato dei problemi e ho detto sai che c'è lo faccio domani mattina così alle persone arriva la notifica fresca fresca Allora Parma Inter 1 a 2 finalmente una vittoria di quelle importanti per come arriva finalmente una vittoria pesante per il tipo di gioco espresso in campo ragazzi ma che gioco abbiamo visto dell'Inter ieri Che gioco che abbiamo visto dell'Inter ieri che dopo essere andata sotto col Sassuolo dopo 4 minuti ieri Super Juve è successa la stessa cosa non 4 minuti però la prima occasione il Parma Gervinio se l'è divorata che era quella più facile E poi si è creato quell'azione da solo dove ha fatto praticamente sedere Candreva è rientrato ne ha saltiti 2 ha tirato all'angolino più lontano facendolo 1 a 0 Gervinio che segna solo contro di noi ho notato questo qua sembra che ce l'ha con noi quando ci vede deve segnare per forza proprio è il suo obiettivo E poi un Inter che praticamente faceva 10.000 passaggi telefonati non ha creato un'occasione pericolosa per 70-75 minuti Un Inter veramente meccanica due attaccanti Lautaro e Lukaku completamente assenti dal gioco Con Lukaku veramente veramente macchinoso sarà che con la sua stazza con il suo peso soffre veramente il caldo Sarà che con la sua stazza deve entrare in condizione Lautaro inesistente ma per un discorso di movimenti non di voglia Ieri non era nemmeno in partita neanche Eriksen cioè praticamente ieri abbiamo visto un Inter schifosa Un Inter che stava meritando di perdere ma veramente stava meritando di perdere E io prima della partita ero molto preoccupato di questo Parma che è una delle nostre bestie nere senza l'allenatore e senza nemmeno Skriniar Poi cosa succede? Che all'ottantesimo c'è un calcio d'angolo Lo batte Eriksen Arriva Lautaro La prende di testa Sul colpo di testa di Lautaro La spizzica Stefano Devrai E ti fa l'uno a uno Un gol è nato come direbbero a Napoli Dalla cazzimma Perché dal colpo di testa di Lautaro Skriniar Skriniar Devrai intercetta quel pallone sempre di testa e ti va a fare l'uno a uno E ti va a pareggiare una partita che stai strameritando di perdere Poi Kuczka viene buttato fuori E allora capiamo che in quegli otto minuti quella partita che non meritiamo assolutamente La dobbiamo portare a casa Moses Cambio indovinato E finalmente una partita come si deve in quel poco che ha giocato Va sulla fascia Rientra Fa un cross perfetto per la testa di Alessandro Bastoni Che da solo Completamente da solo Da fermo C'è da fermo La piazza E fa due a uno E sono i due difensori che portano a casa la partita Stefanino Devrai E Alessandro Bastoni Una vittoria non meritata Una vittoria Di un Inter che ha giocato veramente male Una vittoria importantissima Perché queste sono le vittorie che dimostrano carattere Queste sono le vittorie che fanno le grandi squadre Queste sono quelle vittorie che ti distinguono dalle squadre mediocri Le grandi squadre vincono le partite anche quando non lo meritano Anche con solo due palloni giocati Quei due palloni ti entrano E questa è stata una grande dimostrazione Perché l'Inter di ieri sembrava stanca Svogliata Senza forze Non chiedeva nulla a quella partita Proprio sembrava che si stesse meritando quella sconfitta E che sarebbe finita in quel modo Invece grazie al nostro Stefanino E ad Alessandro Portiamo a casa Tre punti fondamentali da Parma Per me insperati Proprio perché Parma è una grandissima bestia nera per noi Quindi sono veramente felice per questo risultato Ottenuto immeritatamente Noi che abbiamo rubato Perché le occasioni sono le nostre Ma non era una partita che stavamo giocando bene Forse una delle peggiori partite Giocate dall'Inter Del nostro allenatore Ragazzi quindi fortunatamente Su questa partita Io non ho altro da dire La prossima è mercoledì alle sette e mezza Lì il video uscirà puntuale Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro Aiutatemi ad arrivare almeno a cento Ragazzi bene e nel male Amala Grazie a tutti Grazie a tutti